ciao a tutti oggi prepareremo la ciambella pan di stelle il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa gli ingredienti sono farina di tipo doppio zero zucchero semolato burro morbido uova nutella latte cacao vanillina lievito per dolci e biscotti pan di stelle diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccare lo zucchero le uova il burro morbido la farina il latte il cacao la vanillina il lievito per dolci e la nutella chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per due minuti a velocità 5 aggiungiamo i biscotti pan di stelle che abbiamo precedentemente sbriciolato chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per un altro minuto sempre a velocità il composto è pronto trasferiamolo in uno stampa a ciambella che abbiamo precedentemente imburrato del diametro di 24 cm adesso cuociamo a forno per riscaldato statico a 170 gradi per 40 minuti circa la ciambella pan di stelle è cotta lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo successivamente noi la decoreremo con delle stelle di pasta da zucchero ciambella pan di stelle grazie e alla prossima ricetta grazie 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 grazie